Buonasera della famiglia Brighella, buonasera perché sono le 8.44 e iniziamo a vloggare adesso Iniziamo a vloggare perché? Perché stiamo portando Alessandro e Le Giustre Siamo una cosa meravigliosa da vedere e portiamo con noi Va bene? Va bene? Fai vedere come sei bello? Come sei bello? Che faccia da... Andiamo nel Bruco Bruco! Ci sarà anche la morosetta di Ale Bruco! Bruco! Bellino sto negazzetto, carino sta cover Eccoci arrivati, il cielo non promette niente di buono Brighi! Brighi! Ciao Brighi! Dove stiamo andando? Stiamo portando a mangiare il gelato No, il sapone, il gelato Sapone Ale, che gelato prendi? Salve! Dai mamà! 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 Facciamo un po' schifo Cosa ti sei preso te? Cos'hai preso con la manina? Cos'hai preso con la manina? Dammi qua! Non sei capace di mangiarla! Perché il peso è stupido di star lì? Era buono il gelato! dove vuoi andare adesso dove scapi andiamo alle giostre nella macchina due curi cosa c'è? vuoi salire nella giostra? vuoi andare nella giostra? adesso andiamo vuoi salire nella macchina guarda la signora pienissima dai posti liberi c'è una macchina libera per chi vuoi salire signora sti indietro vale vai che si va dove siamo? bruco bruco andiamo nel giro guarda 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 che faccio terrorizzato ehi il bruco saliamo tutti nel bruco Ale bruco bruco oooooh grazie lì si è sentato a prendo vuh! Stringere a mano Bruccò 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 Non so se si diverte Amore Tiriti Tiriti Che si balla Eccoci Bru 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 Uuuuuh! Vale! Mi aiuto? Sì, questo! Bruca! Ehi! Ohhhh! Ohhhh! Uuuuh! Ah! Vale! Ehi! Allee! Allee! Ciao! Che copp! Noi ti dà! Ehi! Ehi! Ale! A mamma! Ciao! Ehi! 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 Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.